allora mister prescindere dal risultato che conta fino a un certo punto naturalmente in queste partite sei contento comunque di come si è mossa la squadra sì direi di sì perché comunque soprattutto all'inizio eravamo un po in difficoltà sul breve però ce l'aspettavamo però la squadra si è mossa bene anche in fase difensiva siamo stati abbastanza attenti nel senso che abbiamo cercato di fare quello per cui abbiamo abbiamo lavorato in questi due o tre giorni e direi che che l'abbiamo fatto abbastanza bene normale che abbiamo affrontato una squadra di serie a che ha qualità sicuramente diverse rispetto a quelle squadre che andremo ad incontrare magari se quando abbiamo fatto qualche errore su qualche movimento ci hanno creato qualche problema però direi che abbiamo fatto un ottimo allenamento e siamo soddisfatti sotto questo punto tra l'altro almeno quello che ho notato si cerca sempre di impostare l'azione sin dalle ritrovie palla a terra lì avete provato a giocare da dietro quindi la ricerca del gioco sin da dietro sì abbiamo cercato di cerchiamo di iniziare l'azione da dietro perché comunque abbiamo giocatori di qualità e se riusciamo a mettere queste palle come è successo anche contro la Lazio che chiaramente ci veniva a pressare quando riusciamo a mettere questa palla alle spalle dei centrocampisti avversari diventiamo pericolosi quindi cerchiamo di sviluppare da dietro oggi forse in paio di situazioni l'abbiamo estremizzato troppo e non stiamo ancora benissimo a livello fisico però è meglio in questo momento andare a estremizzare poi con calma andremo a modificare qualche situazione qualche errore che ci sta in questo momento lo scusate benissimo perché giustamente hai fatto tanti carichi però non si è vista una squadra con le gambe pesanti cioè hanno risposto bene ai carichi oppure no? Secondo lei? Sì, la squadra ha risposto bene a livello di carichi e di lavoro perché fino adesso tutti hanno fatto allenamenti completi è normale che manca l'aggressione forte sulla palla quindi i primi metri nell'uno contro uno dobbiamo lavorare però è un programma di lavoro che dobbiamo fare un po' più avanti e in questo momento come vi ho già detto ci siamo concentrati più sulla parte aerobica quindi è normale che ci sia poca brillantezza nei primi metri Ho visto che alla fine siete parati con Inzaghi, Inzaghi ha detto si vede il marchio di Oscar subito aggressivi Con Simone abbiamo fatto il corso insieme, ci conosciamo, ci siamo incontrati tante volte è chiaro che mi piacerebbe vedere una squadra ma sicuramente sono convinto che ci arriveremo che sia aggressiva, che sul portatore di palla, che abbia coraggio che cerchi di sviluppare comunque il gioco su cui stiamo lavorando quindi qualche segnale l'ho visto però c'è ancora tanta strada da fare Ecco, esperimenti nei fatti pochi però credo che Petrilli in quella posizione che non è la sua naturale abbia fatto abbastanza bene oggi, non so se sei d'accordo Sì ma al di là del singolo che mi piace poco parlare, la squadra, anche quelli che sono entrati dopo hanno dato quello che avevano quindi è giusto che sia così il singolo, ripeto, mi interessa poco quindi Petrilli ma anche Dionisi, anche Marcandella insomma tutti quelli che sono entrati secondo me hanno dato il loro apporto A quanti mercati invece, non so, in settimana ti aspetti, non so, che arrivi i mandorlini? No, io non aspetto sicuramente, ci saranno degli innesti questo è stato più volte ripetuto dalla società, dal direttore ripeto, non ho fretta perché fino adesso stiamo lavorando bene anche con quelli che ho è normale che arriveranno altri giocatori perché l'obiettivo della società è quella di potenziare in avanti, in mezzo e dietro quindi è stato dichiarato anche se arrivassero tra una settimana, dieci giorni, tra tre giorni insomma a me in questo momento sposta poco Roo 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 Grazie.